Ci implotoniamo su tre file, tre file da cinque. Fotografate questa disposizione perché ci tornerà estremamente utile. Rimarchiamo un paio di concetti riguardo alla presentazione. Esiste naturalmente la possibilità di parlare e l'approccio a questa possibilità viene fatto con una sola parola, che è il comandi. Tutte le volte che dovete parlare con un istruttore, la prima cosa che dovete dire è comandi, seguito da recluta, il vostro nome e poi la possibilità di porre una domanda. Non ho ancora capito, capitano, recluta, ciupila, non ho capito le sequenze. L'istruttore dirà sì o no. Tutto bene? Sì, mi stavo sticacchiando. Quindi memorizziamo una semplice, sola, inequivocabile parola. che è comandi. Bravissimi, ci siamo. Comandi, recluta, paniccia licea. A servizio. Grazie. 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 Grazie.